Dal 5 febbraio 2018 gli infermieri hanno il proprio ordine professionale. Che cosa è cambiato? Bene, buongiorno. Con la legge 3 2018, legge Lorenzin, vi è un vero e proprio riconoscimento della professione infermieristica e vede l'inquadramento del professionista infermiere non solo in ambiti aziendali o comunque sanitari, ma vede il coinvolgimento di questo professionista anche all'interno di contesti vicini alla cittadinanza, come ad esempio il ruolo di educazione, come infermiere ad esempio di famiglia, un infermiere di comunità, un infermiere a tutto tondo per quella che è la risoluzione ai bisogni di assistenza della popolazione. Una legge veramente molto importante per noi che segna un cambiamento davvero epocale per la nostra professione infermieristica. Diciamo che l'iscrizione all'ordine diventa obbligatoria per qualsiasi persona che vorrà intraprendere questa professione. Assolutamente, l'iscrizione all'ordine è obbligatoria e prima di entrare nel mondo del lavoro, previa laurea in infermieristica, almeno la laurea abilitante alla professione infermieristica triennale, conseguita presso un'università e successivamente alla discussione della tesi alla laurea, è necessario iscriversi all'ordine per avere una tutela come professionista, ma per garantire anche una tutela a monte per i cittadini e per la loro salute. Grazie.